Benvenuti, cari follower. Innanzitutto, il canale ha bisogno del tuo supporto premendo il pulsante. Mi piace per questo video, per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Grazie a tutti. Se per la prima volta, dopo anni, i temporali spazzeranno l'Italia. Questa volta il maltempo colpirà tutte le province e regioni d'Italia da nord a sud, anche in Sicilia e in Sardegna. E la quantità di pioggia supererà la barriera dei 250 mm. Il modello europeo ha lanciato un avvertimento rosso scuro a tutta l'Italia sul pericolo di queste tempeste molto violente, che potrebbero causare disastri naturali di grandi dimensioni. Il modello europeo prevede che queste forti tempeste arriveranno in Italia a partire da giovedì 5 settembre e continueranno fino all'11 settembre 2025. Cadranno piogge in quantità enormi, venti molto forti e grandine di grandi dimensioni, insieme a inondazioni e supernuvole. Pertanto, invitiamo tutti i cittadini a prepararsi a questi temporali pulendo fognature e corsi d'acqua, perché i temporali saranno più forti di quanto si possa immaginare e potrebbe causare grossi problemi ai cittadini. Maggiori dettagli rimanete sintonizzati nel prossimo video.